Intorno all'una e mezza di notte circa di domenica 20 ottobre, a Vische, nella vicina a Tonengo di Mazzè, 4 o 5 persone in rapida successione hanno fatto saltare, mediante la cosiddetta marmotta, due bancomat della Banca d'Alba e del Canavese. A Tonengo, due pattuglie dei carabinieri in servizio di perlustrazione in zona, allertate dai residenti che avevano sentito il forte boato, hanno subito intercettato la banda dei criminali, prima ancora che riuscissero a smurare completamente i contenitori delle banconote e impossessarsi del denaro. Ne è scaturito un lungo inseguimento che si è concluso sull'autostrada Torino-Milano all'altezza di Rondissone, dove i fuggitivi hanno abbandonato intenzionalmente, nonché un quanto pericolosamente, nella corsia di sorpasso, il proprio Land Rover e Voc, poi risultato rubato, e sono fuggiti a piedi nei campi limitrofi. Anche i carabinieri della compagnia di Chivasso a quel punto hanno abbandonato l'inseguimento e hanno preferito deviare il traffico autostradale, così da scongiurare possibili gravi incidenti ai veicoli in transito. Contessualmente, due militari della stazione Carabinieri di Caluso hanno spostato a mano SUV liberando la carreggiata. Si è alzato in volo anche un elicottero dell'arma per le ricerche dei fuggitivi, che sono tuttora in corso con diversi posti di blocco nell'area interessata.